Allora, abbiamo parlato con Teolier, lui si è diretto a Sud, ci ha dato il suo infuso. Il problema è che il Sud suo non so quale sia, perché il ragazzo sta a Sud, quanto a Sud? Verso la casa descritta da Moore. Io andrei qua un attimino per poi andare avanti alla faglia, visto che l'avevamo sbloccata l'altra volta. Quale castello? Ma io non sono entrato né qua, perché ci stavo andando, qua sì, però è un presidio. Questo qua credo sia un castello, ma non ci sono ancora arrivato. E qua ovviamente dove non vedete il falò o simbolini delle infrastrutture non ci sono arrivati. Io andrei nella zona calda. Io volevo arrivare anche qua, ma non so come ci si arriva qua sopra. Io andrei, aspetta, devo vedere una cosa io perché l'altra volta mi sono sbloccata. Che zona calda? Cioè, guarda qua. Ah, vedete che si è aperto? Adesso che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo fatto lo scorso episodio, si è aperto qua. Si è aperto qua, quindi possiamo continuare a esplorare qui. Che si va ancora giù. Mannaggia a te! Io in quel castello ci andrei, quello grande lì. Ma qua c'è sempre roba. Mannaggia, guarda, mi hanno già controllato sta spalla e mi hanno detto che sta messa malissimo. Quindi pensa un po'. Allora, io non so di quale castello state parlando. Metti la matta. Ma tu sei affanculo, no? Io su dicevo. No, no, io ero qua. Quello su, vai su. Quello là. Questo? Eh, giù. Eh, ma io devo, allora, si può fare, ma io devo ancora esplorare qua. Che non so cosa sia. Che non ho ancora esplorato andando verso questo laghetto. E questo qua. Questa zona qua. Quindi volendo si può fare, dai. Adesso allora mi teletrasporto qua. Ti serve un tank. Sì, cioè, però ve l'ho detto, secondo me questo è trovare la spalla quando sono piena qua, perché lo stomaco è legato al cuore. È tutto. Allora, l'abbiamo preso i pugnazzi. Non le forze oggi. Non le forze, neanche per avere l'ansia. È giusto così. Allora. Allora. Perché devo tenerlo in osservazione? Guardate, guardate, tutt'ora e starò a testare così. Come stavo oggi che non riuscivo a dormire. No, è una ragosta. È arrivato lui, mi fa tranquilla, sto io con lui, tu mettiti a dormire, perché sono proprio svenuta. Allora, stavo tipo così, cercavo di guardare, mi rispira tutto apposso, ti prego dormi. C'è rimasto vivo il gioco. Quanta vita che tieni, voglio? Non mi ricordavo più da dove si ripostano. Ok. È stato meno traumatico di quello che ho aspettato. Sì, perché l'ho fatta a cavallo. Suppongo che lo stomaco sia legato al culo, però io ho come sostentore della orta qua, perché ora c'è pure la fissazione della disserzione, disserzione, qualcosa della orta. Manco lei sa come si chiamano le sue paure. Vabbè, è qualcosa che se la orta si esplode. Allora, intanto qua noi non vediamo nulla. Ma ci ho detto io, non l'hai detto tu, l'ho detto io. Capito il tuo fratello? Noi qui non vediamo nulla in sto posto, vediamo nulla. Intanto vediamo qua cosa c'è. Una comballaria. Vabbè, comunque mi farà piacere sapere che... Ha già mangiato, un po' ipocondriaca, ma. Quando sono nata ho detto al medico, ma è normale se faccio così. Si è levato le mani? Si è levato le mani. Capo le germofili. È normale che urlo appena uscito dalla... È normale che ho sentito la voce rocca mentre urlavo con te sta voce. Eh, però non è giusto, eh. È pieno di roba ovunque. Ti ho detto no, perché devi rompere le acque tua madre. Ma comunque non è nulla di pericoloso. No, c'è un po' di donna in questa ipocondria. Eh, ma qua c'è un'altra caverna. Ragazzi, come faccio ad andare dritto al punto? È impossibile. Sono solo le W. Voi dovete sapere che io costringo... Oh, ma questa l'abbiamo già fatto. Ruvina della forza dell'antico meteorito. Non l'abbiamo già fatto? Eh no. No, perché la grazia non è ancora graziata. Eh, io costringo lui, Davide, e... Davide mi incula proprio di pezzo. Mi dice proprio, ma va a cagare. O mio, to' a cercare di sti cagare. Che scelga Sasha. No, no, infatti io sto andando un po' col cuore, ragazzi. Però volevo fare una cosa. Allora, ho potenziato queste asce. Che l'abbiamo presa, iniziamo a usare tutta la roba del DSI, a parte le cornina. Ma lascia suonare. Igorina. Cinque, sei... Lo so, infatti Igor. Sì, sì, è qua a casa con... No, è stato in The Hospital. Cioè, praticamente nel giro di un'ora e mezza... Anche di più si è... Gli hanno fatto tutto. Il problema è che poi c'è stata la ripresa dell'anestesia e tutto, tenerlo in osservazione. Terrore atomico. Allora. Da sotto, possiamo anche non andarci. Comunque poi ha bevuto... Cioè, stasera poi ha bevuto e ha anche mangiato un pochino, quindi... Ah, stunna, figo. No, ma io ero tranquilla. Finché non l'ho visto addormentarsi così di botto, ho fatto dire da lui, ero tranquillissima. Ho anche sentito Davide. Quando l'ho visto crollare così, ho detto... Cazzo, mi sono spaventata. Lancia... Forgigrafata. Forgigrafata. Cazzo vuoi dire? Daniel! Ciao, ciccina! Quando vorrei mica l'avete sempre fuori... No, no, poi ovviamente l'hanno portato in sala operatoria. Lui voleva aiutarle, le dottoresse, ma si sono messe in voi. Mi hanno detto di no. E gna, facevano quasi, perché ci becca comunque, ragazzi, grosso. Se solo avessi rotto, amico. E ci hanno mandato, ci hanno detto, guardate, andate perché ci vuole tempo. In realtà siamo riusciti ad arrivare un attimo a casa, volevamo andare a accendere l'aria condizionata a Safira, ci chiamano. Non sono male ste armi, regà. Per niente. Sono fighe, eh. A me piace l'almos, quella là, il lampo freddo. È bello, è bello. Adesso proviamolo un pochino di nuovo, ragazzi, perché non è bello. Ciao, Daniel! Ma non c'è un cazzo qua. Sì, perché non me l'hanno pesato. Quindi gli hanno fatto... Guarda questa vena, sto morendo. Non me l'hanno pesato, quindi ci siamo attenuti a un peso vecchio. Fatto già difficilmente perché ci becca non si mette sopra. Lasciate stare quello che sta per dire ora. Io ero come in Italia gli avessero dato più roba del dovuto perché hanno fatto male il peso e tutto. Però ci becca è ingrassato ultimamente. È in peso forma comunque, ma... Non è ingrassato, sta crescendo. Fa tre anni quanto costa deve crescere ancora, oh? Ma a fine tre anni, tre anni tra sei mesi. Ma la massa muscolare dovranno metterla qualche volta, no? Vabbè, sì. Hai fatto la sauna al cinema? No, vabbè. Cioè, vai al cinema del salario condizionale, che cazzo. Come la sauna al cinema? Sei matto. A parte, raga, fatevelo raccontare da Davide, se mai appare in chat, che è tornato da Milano dopo che era venuto a vedere Ciubecca. E praticamente ha beccato treno pieno e senza aria condizionata. Ancora bestemmiando. È arrivata a Genova che ha nuvola addosso, nuvola nera con... 30 minuti di film, si è avuta l'aria condizionata, ma tu, cioè, faccio una rivolta, faccio. Non esiste proprio. Anche perché giù fa un caldo della madonna. Qui adesso ci sono... Qui adesso ci sono percepiti, vorrei. Allora... La madonna! E tu chi sei? C'è un braccialino piccolino, o tre? Un braccialino. Questo ti fa un culo, mamma mia. Pappaiola. Poi sono 31 gradi. Non so se c'era, io sono uscita con i cari, io stavo bene, lui su da l'animo. Mi sono accanto a te, ma è il demi-time. Voglio provare a fare una cosa, perché devo prendere un attimo di... Ti messi cazzo a postare, ma... Siamo il timing eccezionale, dai. Vabbè, giustamente. Ah! È vero che lui è... C'è le chiappe ripostabili. Devi salire sopra la barriera mentre sale, non mi ricordo quale. Ah, danni il minchia se è rivale i suoi soldi, sto dirsi. Eh sì, è ricco, è bello. Per me c'è, no, che non è verissimo. La wiki dice che il maschio di Malabot pesa 38 kg. Ma è fuori peso, ragazzi, taglia grande più grande. Nella normale taglia di un maschio Malabot andiamo dai 38 ai 42, 43, anche 45 kg. Dipende anche dalla muscolatura e la stazia. Ciubè che è un fuori taglia. E comunque sta intorno ai 50 kg, eh. Però comunque è un fuori taglio. È proprio grosso. Però grande grosso è ciula, perché praticamente mi hanno detto pure la dottoressa, mi hanno detto, guardi, avevamo un po' paura, ma invece è stato bravissimo. Cioè, anche quando era molto nervoso che ci aspettava lì nella stanza già sveglio, non ha dato mai sintomi comunque di essere aggressivo. Io li odio questi. Ma porco, due quanto tracking. Qua, ma porco. Eh, vabbè. Se questo è il motivo, allora ci sta. Quando diventa una cosa che non è più... Ah, ok, ti è stancato. Non è più piacere. Ma la passione per le macchine c'è? Ah, beh, quella non... Quella non va via, mi fortuna. Eh, che cazzo. Salute, Audrey. Non ce la faccio più. Cosa ho preso? Cioè, per chi dovessi saperlo, Vincenzo ci guarda qui, Vincent, praticamente è un'enciclopedia vivente di tutte le auto che sono state costruite dall'essere umano. È super fotonico, tra l'altro. Se avete un dubbio su un'auto lo chiedete a lui? Vi darà tutte le informazioni necessarie. Infatti, Vincenzo, sto pensando di comprarmi il SUV della Volvo. Che dicono che in Mega sia extra sicuro. Giusto perché... Sai, io ho capito perché noi non arriviamo mai dai boss, però non è possibile che poi se impuntiamo su un tizio unico. Ma è morto? Ah, ok, scusi. No. A posto. Se la devi fare sneaky? Eh, ma sei su forza, Devi? Sai, non credo che lo utilizzeremo. Andiamo più per... Agi... In questo caso Fede, ho alzato Fede per prendere queste armi qua. Ho messo un punto, ho 16 Fede, giusto per utilizzare queste armi. Ah, vabbè, bastava poco allora. Vabbè. Scusa, non lo sapevo, ho stregato però c'è. Anche me, no? In realtà io volevo che andassi in un punto ben preciso, ma... Non ci arriveremo mai. E Dani, che... 205 ora ho fatto, se non sbaglio. 207. 207. Giù di lì. Ma non c'ho niente da lanciargli a sto figlio. Senti su che secondo me sta facendo la doccia o ha trovato che il problema era la orta e non sa come dirlo. Grazie mille per il follow, Dani. Grazie, Dani. Comunque devo farciva cose per TikTok, per la parentesi. E adesso li dico con OBS, mannaggia la misera, scusatemi. Sì, però, quanto cazzo di vita, Dani? No, 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 fammi passare! Fammi passare! E che adesso sì? E così no? Ho capito. Faremo così da ora in poi Perché? Non si vede un cazzo Si vede, si vede Ecco fatto Perché mi serve che questo sia il primo Sì però non è giusto che colpisci in avanti e prendi all'indietro Porca la miseria ladra Non ha nulla la mia orta Ok Facciamo che mi fida Così Ecco te Si 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 Cosa mangerà di buono San Tesouk Elliot Grazie Grazie Elliot Che bello Elliot è stupendo come nome Elliot è bellissimo come nome Elliot Ridge Non si chiama così la dottoressa di Scrubs Elliot si No Cognome non me lo ricordo ma il nome era Elliot si Fotonico A Elliot Fotonico A Eh non so Va bene per tutte e due no Manca panca Del resto Che se ne sono capato Chi mi spara No lo petta Mi sta pettando la lava No ma se ne so le cioti vi sta ammazzando gli animaletti è normale che quello si incazza Bug e Elliot No non riesco a leggerlo adesso Ho letto? Che cosa devi leggere tu? Sai non so che cosa siamo Aspettami ogni tanto mi devo alzare Adesso c'è vada a controllare Eh ma io ho abbastanza fiale per Per ucciderlo Eh ti devo uccidere il cagnolino Scusami Eh vedi Sono inevitabile di utilizzare i termini come cagnolino E poi oggi siamo tornati a fare Andati dalla clinica mentre aspettavamo che gli facessi l'operazione Quanta gente c'è Andiamo al bar solito e c'era il suo nemico mortale Staccava Non ha potuto litigare con il suo solito nemico allucinato Poi ci lavorava un fabbro Ah le Ci lavoravo Curati per favore curati Per favore curati Scappare scappare Vabbè l'ultima fiala Che avevo tanto questa Quante cazzo sono C'era anche E adesso andiamo a prendere il drop quello grosso Questo burdello per il talismano della forgiatura Madonna come sei Potenzia gli attacchi con armi da lancio Non è il nostro Cura Minchia guarda Eh sì ma sono finite Cioè Davide devo sempre stare là Cura curati curati Finite le cure Cioè ci facciamo bene un po' Qua adesso E mo Ecco Avete visto una leva per caso? Eh tutto qui può sembrare una leva Se erano Comunque per cena mi faccio un piatto di pasta O del sugo della melanzana Buono Ho fatto ricordare che c'è una melanzana Che potrebbe tranquillamente andare a male In breve tempo Quindi domani devo cucinare la melanzana Ma io da qua ci sono già passato Da pranzo non ho mangiato Mi sono poco dimenticato No Io non credo Non penso proprio Che culo Ma magari sarà un shortcut questo La leva per dirà devi saltare sotto il pot Cioè praticamente qui Cosa che già ti ha visto Non mi ha visto Non mi ha visto Guardate eh Qua c'è una leva E te l'ha detto Davi pure che è qui Ma non ti ha visto la leva Ma non ti ha visto la leva Ma no L'altra No non ci ha visto Non ci ha visto Ah qua dove c'era il tizio E lì non poteva andarci Perché c'era il cazzo rotto Sì nell'altro lato E la leva del colo Sei back Hola Sergio Ehi sei beccato? E che palle che siete però Eh Un'arma da lancio Abbiamo trovato Beh sì Non ti hanno visto No Non ce la faccio Guardate tutti due Sì sì Dai per favore Ma dove vuoi andare? A posto Minchia 47 mila anni Non l'ha dato Abbiamo controllato Del messaggio Fosse per il tiro No beh ma si vede che c'è un Qua non c'è il boss Nemmeno in questa Allora Eh non lo so C'è l'altra leva Chiude di salire Sopra il portone Eh dobbiamo tornare Aspetta Davi Perché adesso dobbiamo tornare lì Il problema è tornare lì Né tanto La tragedia Che sapevamo come ci arriva Dalla prima volta Quello è La realtà dei fatti Lascia di ammazzare tra loro No C'è questo C'è questo Tipo Si chiude una porta Si apre un portone Davi Allora Come avrete notato Sascha è sbarbato È diventato una persona normale Sì Mi sono Aghiacciantemente ha tagliato i capelli tantissimo Ma Non è affar mio Ma Praticamente Prima di andare Dal barbiere mi fa No dai mangiamo qualcosa di caldo Perché ho freddo così è Non l'ho detto proprio così Vabbè Avevo mal di stomaco e mi serviva qualcosa di caldo per rilassare lo stomaco Semplicemente Allora le forze non c'è boss ma devi trovare la fornace con un affare con il fuoco dentro A posto E praticamente No si so cos'è una fornace Oh E praticamente ho fatto il brodo Con i soba Ho fatto il brodo di soba e tutte queste cose qua È tornato praticamente grondando di sudore fa un caldo della madonna fuori Non voglio più il brodo Motomo magne Non mi rompi i coglioni Che non so tu ma Non so la ragazza due Non so tu sorella Motomo magne Ma sto Stiamo la barba Eh ma stai bene così Però dalla foto che ho visto Stai molto bene Non si sa Non ho capito dove devo andare Ah aspetta Forse ho capito Alla ponte è fin lì ok Dall'altra parte No l'altra leva Ok c'è una leva Forse la capita La Grande Un euro Un eroe Ok Era così vero Davi Ok Spadone Spadone Meteoritico antico E la madonna Possiamo un attimo Possiamo un attimo Tanto è finito Possiamo un attimo vedere Vediamo Diapositivo Ma lascia una sola Non hai due Sono due Sono due Sono due Sono doppie Ah ok Saranno le cose super Uber pesanti Ah vi trovato anche l'altra arma Quella lì Sì ma Le cose sexine Possono anche Non è che dobbiamo sputarci sopra Perché dalle immagini Sembra che è tutt'uno Con le meteorite Quindi praticamente Quale cazzo è? Cuscina Questo è davvero fighissimo Undici A intelligenza e fede Che non puoi usare No fede C'ho 16 Ma quale che era? Eh meteorite qualcosa E' uno spadone comunque Quindi già sei nella sezione sbagliata Questo Spadone di metallo Meteoritico antico E non sembra brutto Ma è tanto su forza Spadone di metallo Meteoritico antico Se andassi bianco E' quella Vabbè immaginavamo Che era un po' D'angolo E' la madonna E' tutto il meteorite C'ha l'affondo Vabbè questa è la classica Ma perché non è nemmeno lentissimo No no guarda È una velocità No Per essere uno spadone così grosso Non è lento Sì ma è lento C'ha quelle frazioni Di due secondini Guarda che cambia E' un filo più veloce E' più lento di questa Eh ma quel filo più lento In questo gioco Ti fotte In tutti i giochi Vediamo due mani Ma soprattutto nei source Ma due mani nemmeno Più di tanto No muro Che figata atomica La buona parola E' fighissima E infatti Però a due mani Possiamo usarlo Ma cosa è che ti manca A due mani possiamo usarlo Perché è forza 35 Ah eh sì Quindi a due mani Possiamo usarlo Perché noi Abbiamo 30 30 Sì Quindi per forza Premi due volte Dice tanto Solo E due volte non lo fa Invece si Panamo Eh bello questo Bello bello Eh ma Questo fa posso usarlo Soltanto a due mani Eh beh perché noi usiamo I scudi Quindi No no Non per quello È che per la forza Che posso usarlo Solo a due mani Su equipaggio I Ciao a tutti Ho E mi Bene Come Do carreto